Musica 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 Posso avere un caffè per favore? Grazie Ben trovati, sono veramente felice oggi perché vi posso presentare finalmente un locale che va bene per tutte le ore Sono a Fidine Valdarno, questo è buon gusto e pensate già dalla mattina alle 4 è aperto per voi ovviamente, non tutti ci alziamo alle 4 però che ne so, pendolari, tra l'altro siamo proprio dietro la stazione, nel parcheggio grande della stazione, alle spalle della stazione di Fidine Valdarno, quindi già dalle 4 il locale è aperto, ovviamente pendolari i ragazzi, non alle 4 ma quando inizieranno a venire a scuola perché proprio qua giù, in fondo c'è la scuola 1500 ragazzi che transitano tutte le mattine, ragazzi, fermatevi io intanto prendo un caffè ma come vi dicevo non è tutto qui perché è realmente un locale adatto ad ogni ora della giornata superiamo il periodo delle colazioni il momento delle colazioni e andiamo all'ora di pranzo venite con me parlavo di pranzo e buon gusto vi offro addirittura due possibilità perché alle mie spalle lo vedete, ho una vetrina di grande gastronomia quindi pranzo da asporto venite, comprate, ve lo portate a casa e ve lo mangiate tranquillamente a casa mentre dall'altra parte c'è la saletta saletta ristorante perché ogni giorno per voi buon gusto realizza un menù nuovo proprio per il vostro pranzo siete a lavorare in zona noi siamo in piazza caduti di Pian d'Albero a Fidine Valdarno quindi se siete a lavorare qui in zona oppure anche dall'altra parte perché di mezzo avete solo la stazione attraversate la stazione c'è un comodissimo sotto passaggio venite in piazza di caduti di Pian d'Albero e vi fermate a gustare i pranzi con un menù nuovo ogni mattina dico pranzo ma in realtà potete venire anche alla scena ma questo ve lo ricordo dopo perché abbiamo parlato di un locale valido per ogni ora siamo partiti con la colozione sono passato all'ora di pranzo ma intorno alle 19 è l'ora dell'Happy Hour venite con me Happy Hour dicevo e allora me lo preferesti qualcosa da bere a tua scelta? grazie allora dalle 18.30 in poi questa zona è per voi per i vostri aperitivi per il vostro Happy Hour io ho già messo a lavorare il pizzaiolo ovviamente quando arrivate la pizza ve la trovate calda non è che ve la fa la fa ora per stasera per oggi pomeriggio ma non c'è solo la pizza ci sono mille leccornie giuste proprio per gli aperitivi ve l'ho detto è un locale a 360 gradi un locale che va bene per tutte le ore perché se poi dopo l'aperitivo avete ancora fame vi fermate di là potete cenare tranquillamente come anzi meglio di un grande ristorante perché c'è una cosa che ancora non vi ho detto qui a Buongusto è tutta produzione propria a partire dalle prime colazioni quindi le paste i dolci le torte in occasione di compleanni o cerimonie varie passando poi per la gastronomia per arrivare fino al momento dell'happy hour e il pane il pane che venite a comprare a mezzogiorno è tutto di produzione propria fra l'altro penso unico in tutto il Val D'Arno sono aperti anche la domenica ragazzi io non so più cosa dirvi perché qui ci si trova veramente bene io sono appena arrivato mi sento a casa avete visto mi stanno preparando di tutto dal caffè ora assaggeremo anche il cocktail per l'happy hour che devo dire venite perché non costa assolutamente niente Figline Val D'Arno piazza Caduti di Fiandalbero nel parcheggio dietro alla stazione c'è Buongusto dalle 4 di mattina quindi per i pendolari alle 8 poi per i ragazzi che stanno per entrare alla scuola per continuare poi tutto il giorno con il pranzo l'happy hour e poi anche la cena guardate qua che delizie ragazzi Buongusto è il locale che fa per noi che vogliamo vivere a 360 gradi ogni ora della nostra giornata e allora con questo capirosca alla fragola io brindo a Buongusto e vi invito veramente a venirli a provare in via Caduti di Fiandalbero a Figline Val D'Arno grazie di Fiandalbero